Aaaaaaa! Aaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaa !!! Pena un video. C'è un video. AAAAAAAAAAA! E' bella sentita, grazie Gemlex che mi guarda, ci siamo nel qua, nel terzo episodio dell'Ontario Erobrine, erobrine è uno staronzo sto qua, è uno staronzo, non è vero Erobrine, guarda la mia lana, guarda, Erobrine, guarda la mia lana, fammi vedere la tua lana Dove siete ragazzi? Via via! Erobrine è uno schifoso Dai ragazzi, non vi trovo Ah, c'è la sciola io ho delle informazioni importanti che vi vorrebbero servire voi che team siete io non lo dico, ho paura per vedere di Falco che sta mentendo se non è se è preso una trana e la colorata ti spiego ti spiego ti spiego Falco non metti Falco troppo a te si sta giocando il braggio per tutto che avevi perso la lana si, l'avevo persa ma per fare per fare il testo, per mentire, esatto, volevo mentirvi però e noi come facciamo ora fidarci, che se è vero io te l'ho fatta vedere la ragazza, usciamo tutti quanti poi da miniera, un secondo, usciamo tutti quanti quanti, usciamo tutti quanti usciamo pure, vai allattato sopra di voi, ok, posso spiegare una cosa a Giovanni posso spiegare una cosa a Giovanni allora io ho spiegato io ho preso da parte Brazzaville anche idea e abbiamo detto alta è mostriamo entrambe la nostra lana e lui ha detto ok ok aspetta che poi anche si è anche messo la ha aspettato si presupponga che lui abbia messo la lana nel suo inventario altra è io l'ho tirata fuori lui no e inizia a dire oh ma dov'è la mia lana dov'è 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 vai davvero allora raga raga andiamo su quanto è stato del del witter seguitemi quindi lui non è nel mio team e quindi Erbra ha ragione è nel mio team e non dico di che colore Erbra come fa a dirti che è del suo colore? perchè sia tu che sia tu Brazzaville che Erbraine avete detto di essere nello stesso team ecco ti giova ciao ma non è vero non siete nello stesso team perchè io sono in team con Erbraine perchè lui ha detto beh raga potremmo raga però allora aspetta un attimo che team siete e tu ero bello io sto lontano a voi io sto lontano a voi non mi fitto ma non mi fitto tanto prima del settimo episodio non ci possiamo attaccare quindi allora c'è ragione sì sì gioco che poi no però uno si può anche fare doppio gioco io sono con Erbraine insicuro ok io Erbraine te l'ho fatta vedere la mia lana l'hai colorata non è colorata e tu falcon sei lo stesso di Erbraine ah di cosa hai tirato fuori Erbraine non lo so se sono lo stesso di Erbraine fa vedere cosa hai tirato fuori ok sì sono lo stesso di Erbraine e tu Brazzaville Brazzaville ah no no non è vero non è ma perchè Brazzaville ha detto che pure lui è rosso si non è vero perchè pure alle gamer è rosso raga io quando vi ho teletrasportato ho visto che alle gamer tenevi in mano la lana rossa quindi alle gamer è pure rosso no ah non è vero la lana rossa aveva il blocco di ro di caccia e struzzo aveva c'è anche Kree raga mutiamolo smutiamolo c'è è andato un bordello c'è un Kree allora ragazzi uno di noi è un altro team esatto perchè allora le gamer è rosso falcon e ero bello che è Brazzaville Brazzaville è scappato quindi vuol dire no 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 Giovan Giovan con chi senti? ma tu ah che ti sei? ehm 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 vabbè allora aspetta facciamo così noi qua siamo tutti rossi se tu sei rosso puoi stare se no giovane è stato fatto giovane siamo 4 siamo 5 rossi non è possibile esatto 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 quindi nessun altro di voi rosso ragazzi io sto scherzando sono con voi ma 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 tu non hai capito ma sei scello no l'avevo capito ma sei scello ma sei scello ah giocatore ti sei io sono pure rosso ah ah no io non mi fido ma non so venite qui per l'antichore ma sono tanti si tira fuori hai fatto ok tutti quanti a me vai venite qui chi non la tia fuori verrà ucciso da tutti quanti noi ok vabbè 3 2 2 1 via rosso cos'è il pezzo di pelle giovane giovane oh mario giovane guarda che c'è la roba oh oh no qui è contro no 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 giovane tira fuori giovane giove blu giove blu sicuro giovane no no non scappa vado scappa non sono giove blu sicuro dove sei ero sei blu sei blu giove blu dove ammazzarelo no non lo puoi attaccare sei colorati le lane non è vero fermo che è schifo con i giovani fiori rossi non ci posso credere giovane 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 grande brazza lato il volo il volo ho trovato il m il lapislazuli e un botto buono ho scattato io ho 16 diamanti per un bel po' di oro allora facciamo così aspetta facciamo così io vado da fedecresci che sicuro è blu si e e e poi nulla tu intanto continua il tuo piano grande brazza vai a dopo ehi raga io lo sapevo che brazza millerun infame lo sapevo e nulla grande brazza sei un grande gli sta trodolando dopo gli prende tutta la roba eh no fedecresci è andato da loro raga fedecresci un problema blu blu vieni qua ehi 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 blu 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 siamo dello stesso team uuuh no sei blu sei blu sei blu vero no sono giallo vieni andare in miniera no siamo dello stesso team perchè 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 devi fare uno hc come andare a spasso ma se sono giallo si si giallo allora si si sei blu tutto infame allora siamo a cavallo oh io che sto morendo non proprio ehm comunque noi due siamo blu poi brazzaville blu e sta trollando tutto il team rosso mhm ma perchè siamo in sta zona che fa schifo mannaggia mannaggia acquistela da e son morto sono morto vi ho detto il fantoma è il modo più brutto di minecraft vabbè ma che maggior quanti diamanti hai? tanti tanti quanti? sei io ne ho 16 e oro quanto ne hai? 20 sei andato? no è sott'acqua finocchio nonostante c'era dell'acqua è stato stranissimo ehm sono rimasto con due cuori poi li avevo recuperati un po' diamanti uuuu buono 2 3 4 altri 8 diamanti raga bello bello si 24 diamanti è vero io ho un'altra mela d'oro me la mangio tanto Brazzaville recupera cioè gli ruberà tutti i materiali che hanno l'oro e questo è l'obiettivo quindi se ha le gamer è rosso a sto punto fede cresce non si sa se è rosso o blu che altro oro perfetto 1 2 3 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 decresce abbiamo perso ragazzi finisce qui anche il terzo episodio mi raccomando lasciate un like, un commento iscrivetevi al canale è tutto bella